ma siccome tu cambi ho aggiunto aggiunto ho fatto un passo ulteriore il passo successivo mi ricordo è avvenuto una volta che stavo facendo una conferenza sull'identità e stavo esponendo il pensiero di Hume e in quel momento mentre stavo parlando mi è venuto in mente di dire che per Hume allora io non è identico a se stesso io e Francesco Armotti non sono identico a me stesso ma cosa sono? sono simile a me stesso sapete su cosettine biografiche ma così insomma no? finita la conferenza ho detto ecco cosa mi mancava l'idea della somiglianza cioè io sono simile a me stesso simile vuol dire che c'è anche la differenza se due cose se io dico che queste due cose sono simili vuol dire che sono anche diverse e se no sarebbe evidente a un certo momento dico ah la somiglianza questa idea cominciava a follarmi nella testa qualche tempo dopo mi viene in mente un libro che uno che era stato docente di filosofia no? e cioè Carlo Augusto Iano nel 1935 lui aveva scritto un libro intitolato La Selva delle Somiglianze un libro sulla filosofia antica io ce l'avevo questo libro l'avevo letto ma sinceramente come dire non mi ero concentrato su questo libro perché me lo vado a prendere in mano e me lo studio e cosa scopro? scopro questo scopro che nella filosofia antica c'erano di quelli che dicevano che il mondo è tutto fatto di somiglianze e di differenze c'erano quelli che dicevano ecco questa è una frase poi nel mio libro ovviamente è uno dei punti fondamentali no? il protagonista diceva questo ogni cosa per un verso o per un altro somiglia a qualsiasi altra cosa non dice una cosa può somigliare perché questo è obbligo dice ogni cosa per un verso o per un altro in un modo in un altro somiglia a qualsiasi altra cosa questo significa immaginare il mondo appunto come un intrico di di somiglianze e di differenze ed è penso di poter dire insomma una frase molto potente e anche inquietante perché appunto fa vedere un mondo tutto interconnesso perché le somiglianze cosa sono? pensiamo bene come potremmo tradurre la somiglianza con questo un pensato concetto? condivisione due cose sono simili se è una misura in cui condividono qualcosa qualche tratto, qualche aspetto, qualche elemento, condivisione il libro Ghiviano per me era stato importante perché mi faceva vedere come la filosofia classica greca come dire, aveva condotto questa guerra contro le somiglianze contro la teoria delle somiglianze di Potagora eccetera eccetera questo è molto importante per noi da capire cioè noi dobbiamo rendersi conto che gran parte della nostra filosofia scaturisce, nasce esattamente di lì e quindi rendersi conto che per noi le somiglianze noi le abbiamo come dire come ha fatto Platone, le abbiamo un po' marginalizzate, le abbiamo superficializzate cioè le abbiamo considerate come qualcosa di superficiale molto più importante, l'identità se voi prendete la teoria di Platone relativa alle idee ecco, è una teoria dell'identità ecco, è un'idea che non cambia che rimane identica a se stessa se no non sarebbe un'idea è l'influenza che Platone e Aristotele hanno esercitato cioè su questo direi è innegabile poi ecco, io faccio poi un'altra riflettura anche lì, un libro che sinceramente non mi aveva quando l'avevo letto quanto tempo fa Michel Foucault le parole e le cose e io mi rendo conto che Foucault, anche lui sta descrivendo una lotta una guerra contro le somiglianze cioè quando lui nelle parole e le cose descrive il modo con cui emerge, viene fuori quello che lui chiama le episteme della modernità la cultura poi della scienza moderna eccetera è tutto impostato tutto impostato su questa idea di fondo e cioè contro le somiglianze perché le somiglianze era come dire la il concetto fondamentale dell'epistemia rinascimentale no? nel rinascimento anche lì il mondo tutto interconnesso non ci capì più niente ecco, questa è la mia cosa e quindi come dire le cose mi si stavano no? accumulando ecco su questo tema delle delle somiglianze mi stavo rendendo conto che effettivamente buona parte ecco del nostro del nostro pensiero delle eredità intellettuali a cui ci riferiamo eccetera è fondata fondamentalmente su questa no? l'identità contro contro le somiglianze e c'è una cosa di 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 Foucault che trovo molto un contributo notevole e cioè Foucault dice ecco con l'episteme moderna la scienza moderna eccetera eccetera classificazione tipologie eccetera le somiglianze sono state marginalizzate sono state messe ai margini del tipo no? non sono non sono scienza non è materia scientifica ecco ma dice Foucault ma non sono scomparsi lui usa l'espressione il mormorio continuo delle somiglianze cioè tu le escludi tu scienziato tu pensatore eccetera eccetera le escludi le hai margini le metti ai margini eccetera ma loro continuano il loro il loro mormorio noi adesso useremmo il termine resilienza ecco le somiglianze sono resiliente quello vuol dire ecco come l'erba del prato tu la tagli la tagli ma poi il pesce è resiliente e questo secondo me è un'idea molto bella questa no? che poco ci trasmette anche se la trasmette in maniera un po' come dire non tanto consapevole dell'importanza invece è molto importante queste sono un po' le premesse diciamo così del mio libro ecco io dopo aver fatto questi pensamenti queste cose qui eccetera mi sono detto qui e qui anche perché giustamente i miei collaboratori più stretti mi dicono d'accordo tu hai sparato contro l'identità ma e cosa ti ha in mano? quindi l'esigenza diciamo così di offrire contribuire a elaborare diciamo così dei concetti alternativi ecco lo sentivo molto forte in questi anni è vero come diceva Foucault che la somiglianza è stata messa da parte dal pensiero scientifico eccetera eccetera ecco io sono andato a leggermi l'origine delle specie di Darwin è tutto un elogio delle somiglianze è tutto costruito sull'idea delle somiglianze la ricerca delle somiglianze la ricerca delle somiglianze ma l'identità cade cioè l'identità era apparteneva ai sistematici a coloro a coloro che davano luogo ad una visione sistematica della della natura fissa erano i fissisti le specie sono fisse eccetera lui invece cosa scopre ecco cos'è che scopre le somiglianze quelle somiglianze che lui chiama omologie lui distingue tra omologie e analogie le omologie sono quelle somiglianze tra specie diverse e che però come dire possono essere ricondotte a un ceppo originario comune cioè sono somiglianze che tu ti puoi spiegare virgolette da un punto di vista storico di storia naturale è ben chiesto invece le analogie sono quelle somiglianze tra specie diverse e per le quali però non riesci a trovare una genesi comune il libro l'origine delle specie è proprio far vedere l'importanza delle somiglianze tutto questo per dare un po' di fondamento è un po' di fondamentale